Potrebbero arrivare degli sconti sulle tariffe autostradali dei tratti della 14 interessati dalle limitazioni al traffico a causa dell'inchiesta della procura di Avellino che ha disposto il sequestro del barriere bordo ponte dei viadotti. A far trapelare la notizia è stato il ministero dei trasporti che ieri ha incontrato i vertici di autostrade per l'Italia per discutere delle misure da adottare per tentare di mitigare le problematiche causate proprio dalle limitazioni al traffico e dai restringimenti di carreggiata sui viadotti abruzzesi, marchigiani e liguri. Sono state valutate, si legge in una nota del MIT, tutte le opportune e necessarie misure al fine di garantire la sicurezza e la fruibilità delle autostrade attualmente interessate dalle restrizioni alla viabilità. Sulla base di tali elementi e all'esito delle verifiche in corso, continua la nota del ministero, è stato richiesto al concessionario di adottare ogni misura utile al superamento delle criticità. Gli sconti sulle tariffe erano stati invocati, ad esempio, dal sindaco di San Benedetto del Tronto, uno dei comuni marchigiani maggiormente penalizzati dalle limitazioni al traffico. Autostrade per l'Italia, parallelamente alle interlocuzioni con il ministero dei trasporti, sta portando avanti anche una trattativa con la procura, sottoponendo ai magistrati di Avellino, che indagano sulla sicurezza dei viadotti, i progetti esecutivi per la messa in sicurezza delle barriere bordoponte. Lo scorso 24 dicembre, tre viadotti marchigiani sono stati dissequestrati per consentire i lavori urgenti, provvedimento questo che si attendeva anche in Abruzzo, ma che non è mai arrivato. La situazione, soprattutto tra Silvi e Roseto, è drammatica, con lunghe code che stanno provocando, da diverse settimane ormai, disagi e aumento dell'inquinamento acustico e ambientale all'interno delle città. Nel tratto in questione poi si aggiunge la problematica del viadotto Cerrano, la cui stabilità è stata messa in discussione, ragione per cui i mezzi pesanti non possono attraversarlo. Ai disagi per la cittadinanza si aggiungono le problematiche delle aziende del Terramano e della Val di Sangro in provincia di Chieti, solo in parte mitigate dall'arrivo delle festività natalizie. Se la situazione non troverà una soluzione tampone che possa ripristinare una transitabilità accettabile sulle autostrade e sulle strade statali parallele alla ripresa a pieno regime delle attività produttive c'è il serio rischio di danneggiare anche il tessuto produttivo regionale, con conseguenze nefaste su un'economia già in difficoltà per altre ragioni.